ciao sono felice di essere qui con te lascia che mi presenti il mio nome è rossella pani io sono una coach un insegnante una formatrice nell'ambito della crescita personale e spirituale fin da bambina sono sempre stata molto sensibile alle energie ma ho sviluppato queste mie capacità e questi miei doni all'età di trent'anni sono ben undici anni che che studio e lavoro a stretto contatto con gli angeli e in particolar modo con la frequenza angelica dell'arcangelo michele l'arcangelo michele per me è stato una guida è stato un grande maestro un grande insegnante che mi ha aiutato a ricevere dei messaggi molto importanti per la mia crescita personale e spirituale e mi ha aiutato ad allinearmi allo scopo divino della mia anima insegnandomi ad ascoltare le mie sensazioni insegnandomi a fidarmi di me stessa a fidarmi del mio sentire delle mie capacità e dei miei talenti e questo mi ha portato a sviluppare queste mie questi mie talenti per portarli poi a servizio delle altre persone questo è un video di presentazione del mio prossimo seminario webinar che si terrà da casa quindi avrà la possibilità di lavorare attivamente con me attraverso il tuo pc il tuo tablet o il tuo cellulare se anche tu come me hai voglia di riconnetterti con la tua anima con la tua voce interiore e se anche tu hai voglia di udire di sentire di percepire la presenza dei tuoi angeli attraverso l'arcangelo michele attraverso dei veri e propri insegnamenti che mi sono stati trasmessi dall'arcangelo michele per aiutarti in questo processo di riconnessione con la tua voce con la tua voce dell'anima con la tua voce interiore sono tante le persone che parlano di canalizzazione di connessione angelica però è molto importante dal mio dal mio punto di vista ascoltare la voce reale degli angeli e non la voce dell'ego che potrebbe intromettersi laddove tu magari sei alle prime armi e non sai come fare non sai come meditare non sai come che voce ascoltare non sai se la guida divina che tu senti è quella reale quella giusta ecco per questo ho creato questo questo seminario normalmente io tengo i seminari dal vivo per il momento continueremo a fare i seminari webinar da casa che sono straordinari le energie sono molto potenti ed è possibile fare questo lavoro anche da casa in massimo relax prenditi tutto il tempo per poter imparare questa questo lavoro straordinario lavoreremo ben due giorni questo webinar si terrà il 17 e il 18 di luglio 2021 due giorni straordinari due giorni meravigliosi lavoreremo circa quattro ore al giorno quattro ore di di sabato e quattro ore di domenica non proverai stanchezza le tue energie si eleveranno si innalzeranno in un livello di gioia di amore di aspettative meravigliose di appagamento totale in nome dell'amore si lavorerà tantissimo con la protezione sacra dell'arcangelo michele quindi assolutamente questo sarà un lavoro sicuro un lavoro protetto non entrerà alcuna interferenza naturalmente io consiglio vivamente ai partecipanti a questo seminario di recitare o di ascoltare le preghiere da me scritte canalizzate dall'arcangelo michele attraverso la voce dell'arcangelo michele sono la preghiera di protezione degli ambienti e della casa della casa degli ambienti e il processo di liberazione sono molto potenti e sono fondamentali come preparazione energetica a questa esperienza angelica è un lavoro come ho detto protetto è un lavoro che ti consentirà di ricevere guida e assistenza attraverso la tua voce interiore è un lavoro veramente sicuro la tua energia sarà radicata ti sentirai radicato nel tuo corpo in piena lucidità mentale ma in massima connessione col tuo sacro cuore per raggiungere questo livello ripeto c'è una preparazione appena ti scriverai al webinar saprò darti tutti i consigli necessari per prepararti energeticamente a questa esperienza meraviglioso ok naturalmente dopo il webinar avrai tutti gli strumenti per continuare ad allenarti e a connetterti con i tuoi angeli e con l'arcangelo michele quindi ti verranno date delle meditazioni ti verranno date delle preghiere scritte che ti aiuteranno quindi a mantenere questa connessione e a stabilirla giornalmente ok questo è molto importante per mantenere attiva la connessione diretta con l'arcangelo michele per arrivare alla connessione diretta è tutto un processo tanto è vero che questo seminario webinar è strutturato in tre livelli abbiamo un primo livello dove tu imparerai a connetterti con i tuoi angeli attraverso l'utilizzo delle carte ricordiamoci che le carte se utilizzate nella maniera giusta con la sacra protezione dell'arcangelo michele con le preghiere giuste così via imparando a radicare la vostra energia nel centro della madre terra chiedendo guida assistenza e protezione all'arcangelo michele sono uno strumento di divinazione molto potente e le carte hanno dei messaggi molto chiari molto semplici molto gioiosi ma anche molto diretti e veritieri e vi daranno delle dei messaggi per aiutarvi a capire qua cosa qual è la strada da intraprendere per ricevere risposta alle vostre domande per aiutare a fare chiarezza naturalmente si baseranno sempre sull'energia del presente e sull'energia che si sta per manifestare in base alla vostra energia del presente ok quindi sono veramente uno strumento utile per aiutarvi a capire dove siete dove state andando e questo è un primo livello la cosa meravigliosa che durante il webinar voi leggerete le carte per voi stessi ma aiuterete faciliterete la lettura angelica anche nelle altre persone e viceversa quindi sarà un lavoro interattivo si conosceranno altre persone altre anime nel cammino spirituale proprio come voi ok poi abbiamo un secondo livello abbiamo la scrittura ispirata ispirata perché arriva dal vostro sacro cuore arriva dalla voce dell'amore dalla voce dell'amore che parla dentro di voi ok sempre con la massima protezione guida assistenza dell'arcangelo michele ricordiamoci che la vostra energia sarà radicata ricordiamoci che voi sarete presenti ricordiamoci che questa non è la scrittura automatica la scrittura automatica è un'altra cosa qua sarete voi a sentire la voce dell'amore che parla da dentro di voi e voi riporterete attraverso la scrittura ispirata i messaggi per voi e i messaggi da dare alle altre persone e le altre persone porteranno messaggi per voi lavoreremo tanto sull'ego su come imparare a trascenderlo a non ascoltare la voce dell'ego che parla e ci distoglie dalla verità che ci distoglie dalle nostre sensazioni di andare avanti nella direzione dello scopo divino della vostra anima ok quindi veramente è un lavoro sicuro un lavoro protetto un lavoro pieno di gioia un lavoro pieno di entusiasmo fino ad arrivare all'ultimo livello il terzo livello sarebbe la cosiddetta connessione diretta sarete in grado di percepire di sentire di udire la voce dell'arcangelo michele la voce dell'amore che parla attraverso di voi dipende dal canale che avrete che avete più sviluppato potrebbe essere la chiaro senzienza ossia il sentire spiccato attraverso le sensazioni del vostro corpo oppure potrebbe essere il potere dell'immaginazione dell'intuizione della visione l'udire la voce degli angeli ognuno di noi ha un canale diverso naturalmente l'arcangelo michele a massimo rispetto del vostro libero arbitrio della vostra sensibilità quindi si manifesteranno gli angeli e l'arcangelo michele attraverso il canale più giusto per voi senza crearvi cioè creando amore intorno a voi quindi nessuna paura nessuna niente vi spaventerà perché saremo veramente in un livello espanso di amore ok è un lavoro veramente sicuro e protetto sono più di 12 anni di esperienza da parte mia in questo settore in primis ho lavorato veramente per tantissimi anni su me stessa per imparare a connettermi nel modo giusto ok anche frequentando dei corsi di formazione con maestri molto più avanti di me in quel momento del percorso del mio cammino ma poi è stato proprio l'arcangelo michele attraverso i suoi insegnamenti ad aiutarmi a creare una modalità tutta mia che è molto semplice anche da insegnare alle altre persone e quindi ecco perché sono nati seminari e webinar di connessioni angeliche se siete interessati interessate volete avere maggiori informazioni cliccate qui sotto cliccate il link va bene che vi riporterà direttamente alla locandina del seminario del webinar con i costi ricordiamoci che il webinar è in promozione i primi tre iscritti riceveranno il corso online di connessioni angeliche del valore di 333 euro in omaggio quindi veramente io vi aspetto numerosi la classe non potrà accogliere più di 20 persone quindi veramente con contattatemi per avere maggiori informazioni io vi saluto con tanto amore ci vediamo presto nella classe di connessioni angeliche ciao ciao